Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Questa è la conseguenza della decisione che si attende al Tribunale di Napoli rispetto alla leadership di Giuseppe Conte. Vi rendete conto che indicare delle liste quando è subiudice colui che deve decidere chi sono i candidati è molto complesso. Tutti i giochi li vedremo più avanti, già un assaggio a ottobre alle regionali siciliane e poi certamente alle politiche. Penso però che da questa tornata elettorale quello che resta è un rapporto mai così basso tra politica e magistratura perché il tentativo di strumentalizzazione politica del referendum da parte di alcuni, sappiamo chi sono, Salvini, Renzi, che ha cavalcato questo referendum, ha provato a cavalcarlo e con il risultato che vediamo dovrebbe trarre le conseguenze rispetto al rapporto con i cittadini che poi si ripercuote nel rapporto sulle liste e sulle candidature. Senza dubbio le divisioni che abbiamo visto nel centrodestra e la lotta, l'ultimo sangue, le coltellate tra i leader Meloni e Saldini tranne poi sul palco di Sborina a Verona far finta di volersi bene come se niente fosse dà proprio la dimensione, il disegno di una politica che prende in giro i cittadini. I cittadini hanno ricambiato andando a votare come abbiamo visto. Anzi, non andando a votare come abbiamo visto. Senaldi, vediamo Senaldi.